Il 13 agosto la squadra si radunerà in palestra agli ordini di coach Giorgio Valli, la campagna abbonamenti invece partirà successivamente la settimana dopo, perché questa scelta? Dal momento che l'anno scorso abbia successo quello che è successo e molti probabilmente potevano avere qualche dubbio, noi abbiamo deciso di costruire la squadra, farla vedere per far capire ai nostri sostenitori quello che era il nostro progetto e quello che era realmente quello che noi volevamo costruire per il futuro, perché queste qui sono le prime basi, perché se vogliamo avere veramente a Forlì quello con la passione che ha, avere qualcosa che possa proseguire nel tempo, bisogna costruire e mettere i pilastri per poter veramente nel futuro, avere le basi di ragionare su delle prospettive continue. E sul campo, ora manca un solo giocatore, la guardia americana da quintetto, la sensazione che ci sia un bel colpo pronto ad essere annunciato? Pasquali e Giorgio Valli stanno lavorando perché questo possa avvenire, è qualcosa che noi ci auguriamo e pensiamo di avere veramente un roster molto valido, di potercelo giocare con quasi tutti e forse con tutti.